Prego Abuna, ci tiene tanto lei a farci vedere un po' di storia, lei che ha questa passione per storia, preistoria, qui invece è soltanto storia per il momento o meglio tradizione, eredità palestinese, si potrebbe fare discorsi molto lunghi su queste tradizioni di Palestina che conservano il popolo o lo smarriscono. Infatti la storia Magister Vite, la storia e la maestra della vita, è la storia che ci fa legare il passato al presente e permettere il futuro. Qui abbiamo dei musei, il primo museo è il museo della Birzet all'origine, voglio far mostrare alcuni modelli, fotografie di Birzet sia della scuola, sia dell'ambiente, sia della parrocchia. Comincio dalla chiesa, la prima chiesa che trovava proprio era una casa, una casa di un Ibrahim Yasser, una casa dei cristiani che ha presentato la sua casa come chiesa. Era del 1856, è rimasta questa casa fino a 1859, dunque per tre anni quasi la prima comunità viveva in una casa come prima chiesa, era una casa la chiesa. Poi piano piano, 1871, dopo hanno fatto la seconda chiesa e 1975 la grande chiesa che è attualmente. Questa dunque importanza della chiesa, vedete come era una casa naturale. Poi andiamo alla scuola, guardate la scuola, appena siamo arrivati qui in questo ambiente, subito il parroco ha fatto la scuola. E si vede la scuola interessante del 1896, si vede quanti ragazzi erano con loro nomi e solo ragazzi, non ragazze. Dunque in quel momento, nel secolo passato, le ragazze erano proibite di andare alla scuola perché non si può mescolare ragazze e ragazze insieme in quel momento. Dunque vedete il padre che era lì con tutti i maestri e con gli studenti, un po' tipo, si vede tipo turco con i loro cappelli, con i loro vestiti. Vedi, Berset hanno adattato alla vita di quel momento. Poi vediamo anche l'ambiente, questo ambiente importante per noi cristiani di Berset, antica Berset, perché ci fa ricordare proprio tutte le figure della Bibbia. Per esempio, guardate qui, le donne che vanno al pozzo, ci fa riduccare subito la samaritana, Rifka, Sara, tutti quelli che, l'Antico Testamento che andavano, ci trovano tutti sul pozzo. E questa è una bella immagine viva del presente dell'Antico Berset che ci fa legare con l'ambiente biblico. E qui anche, questa ci fa ricordare, c'è questa una vigna, un campo di vigna con torre. Ci fa ricordare subito quella parola di Gesù, un uomo ha fatto una vigna e ha costruito una torre per costruirla. E poi si parla come ha fatto tutto il suo possibile per conservare la vigna. Questo museo, ho esposizioni di Berset per legare il passato con il presente, per dare l'identità e l'importanza dell'eredità palestinese di Berset. Ma questa terra ha una storia, una preistoria molto più lunga. Adesso ci farà vedere il museo, come lo chiamate, diviso in tre parti. Allora questo suolo è Berset, ma questo Berset entra nella storia di Palestina. Il primo uomo, come viveva il primo uomo dei due milioni di anni in questa terra. E poi abbiamo l'archeologia, tutti i periodi che hanno passato in Palestina, il tempo di, diciamo, di romano, bisantino, eccetera, e cananaio. E poi facciamo un po', una piccola collezione, una piccola collezione di heritage di Berset. Abuna, ecco qui le tre scritte, museo preistorico, museo archeologico e tradizioni palestinesi. Ha fatto un lavoro enorme qui in questo primo anno e mezzo in cui è arrivato. Cominciamo da quello preistorico? Sì, questo è il museo preistorico. Quello che mi ha dato forza di fare questo è proprio la parola del Papa, che vorrei cominciare, che lui ha fatto un'edienza il 16 dicembre 2006 per tutti i direttori del museo. E dice che i musei rappresentano un'opportunità straordinaria per l'evalizzazione. perché tramite i differenti lavori loro presentano ai visitatori un testimone eloquente di una relazione tra il divino e l'umano della vita e soprattutto la storia della nazione. E questo mi ha dato proprio attraverso questo museo non solo per dare l'importanza dell'uomo palestinese ma anche legare l'uomo palestinese alla sua vita, al primo uomo e certamente con relazione con Dio. Entriamo nel settore dell'archeologia e alcune cose da mostrarci a Buna che sono anche con un riferimento specifico al Vangelo per comprenderlo meglio. Questo è un opolo di Vedova che tutti i cristiani conoscono ma quando faccio vedere ai nostri ragazzi, ai parruccani, questo opolo cominciano a avere il piacere di penetrare nel Vangelo e capirlo meglio. Adesso passiamo a un lecerne. Per me il più importante è questo tipo erodio. Tempo di Cristo è importante per due cose. Prima di tutto, ben fatto, originale. di Gerusalemme, tempo di Cristo erodiano. Dunque, qui Gesù stesso aveva, quando viveva in questo ambiente palestino, aveva di questi, usava di questo. E vedeva il popolo, usava. Allora di questo insegnava. Insegnava che dobbiamo essere la luce. Lui la luce e dobbiamo essere la luce. La luce non si mette sotto la tavola ma sopra perché tutti. Ma anche si può vedere anche queste pietre importanti, la croce dei bisantini. Prima che gli arabi muslimani erano qui, erano i bisantini, i cristiani, i arabi, erano qui. E questa è la loro forma, la loro croce. E anche la loro iscrizione. Pater, guardate, pater, è tutto una pater che è proprio dei tempi dei bisantini. Dunque gli arabi cristiani erano prima degli arabi muslimani. Ci sono tante cose a dire, ma ho fatto qualche accenno a alcuni di queste archeologie per mostrare l'importanza dell'archeologia con la nostra fede e con la storia del popolo palestinese.